Una formazione che comincia con la musica, perché sono nata a Milano e ho cominciato molto presto a studiare musica, pianoforte, a 5-6 anni, in maniera curiosa, con un insegnante che era una cantante, che però insegnava anche pianoforte, quindi anche in una maniera anche giocosa, per poi cominciare conservatorio, dove mi sono diplomata. Pur amando da sempre la musica, sentivo una fatica, sentivo un bisogno di respirare e guardandomi attorno sono incappata in un manifesto che parlava dell'apertura di un bando della nuova scuola del piccolo e ho provato. Non so perché, perché io non avevo nessuna esperienza teatrale, io avevo solo esperienza musicale, di concerti, di prove, di studio, di questo. Era una grande lettrice sin da bambina e forse questo è stata la chiave di volta perché nella lettura da sempre, da allora fino adesso, io sento una forma di libertà e una possibilità ulteriore di stare al mondo. Mi sento veramente nel mondo pienamente nella lettura perché mi apre le vie. Poi ci sono stati tre anni di scuola, una novità assoluta per me, trovarmi con 30 persone tutti i giorni per 12 ore al giorno a studiare, lavorare, perché poi lavoravamo già dal primo anno con Streller al teatro studio e al suo ultimo spettacolo, al Faust e poi appena uscita dalla scuola ho cominciato a lavorare con Glauco Mauri e immediatamente dopo con Massimo Castri e lui a lungo, a lungo e quella è stata veramente la mia formazione d'attore, nel senso che sì, ho avuto una scuola prima che mi ha dato le basi, forse, ma quella che è stata la formazione sento che è avvenuta con Massimo Castri perché lui dava un accento molto forte all'artigianato del lavoro di scena, un lavoro anche duro, molto duro. E poi Carmelo Bene, sicuramente per me un incontro fondamentale perché il filo rosso della musica si riallacciava a una storia antica e sicuramente l'incontro con lui e il fatto che lui abbia deciso di lavorare con me, di farmi studiare per quasi due anni insieme a lui, era molto dovuto al fatto che io ero una musicista e questo lo interessava moltissimo. Io non ho mai abbandonato la musica, ho continuato a studiare, a suonare, ma soprattutto a cercarmi un repertorio per voce d'attrice e cantante che già esiste, già dal 600, c'è un repertorio importante, 700, 800, importantissimo il melologo e poi per arrivare ai contemporanei, cioè ho chiesto e ho lavorato anche con molti autori contemporanei proprio per cercare il nuovo repertorio. Detto questo, lui ha sentito parte del mio lavoro, gli ho fatto sentire e mi ha chiesto, insomma mi ha detto, ma perché tu tieni separati questi, devi fare che questo diventi il tuo modo di fare teatro, la tua lingua e quindi da lì poi diciamo si è concluso un po' il lavoro di compagnia, che sono stati dieci anni di lavoro di compagnia, ha cominciato un po' un lavoro più personale su una ricerca di linguaggio teatrale, per cui ho avuto la necessità di stare da sola per quello, per ritrovarmi e ritrovare e adesso dopo alcuni anni che sto percorrendo questa strada con proprio alcuni lavori importanti per me, sento il bisogno di riaprire la strada a un lavoro con altri, un lavoro di gruppo. La lettura poetica non solo mi appassiona, ma è diventata anche nel tempo, negli ultimi anni, una necessità di trasmissione, per cui mi sono trovata, quando mi è stato chiesto di fare dei laboratori, che sto cominciando a fare da alcuni anni, mi sono trovata a proporre per esempio la commedia di Dante come momento di lavoro teatrale, teatrale proprio sulla parola, sul verso, sulla musicalità del verso che si fa corpo di scena e ho riscontrato che i giovanissimi attori non solo l'hanno letto tutto su mia richiesta, ma poi si sono trovati a scoprirlo, a scoprirlo perché proprio la lettura poetica, entrare nella lettura poetica in maniera concreta, in maniera proprio fisica, è scoprire anche la facilità. Se tu entri nel ritmo, nel respiro della poesia, scopri la facilità, anche del verso di Dante che sembra ancora ad oggi spesso respingente, invece attraversandolo lo rendi possibile e forse bisognerebbe cominciare a fare teatro molto prima, come adesso io vedo cominciano a fare anche dall'asilo, dall'elementari, una forma teatrale che avvicini i testi alla possibilità che questi testi poi si facciano corpo e quindi renda tutto più semplice. Ho cominciato a fare cinema a Milano con Silvio Soldini in un cortometraggio, è stata un'occasione, lui è venuto a teatro a vedermi e poi mi ha chiesto di lavorare insieme, ma diciamo il mio inizio al cinema è stato con Giuseppe Bertolucci, col quale mi sono trovata in tutto e anche questo è stato per me un grande incontro ed è diventato l'inizio di un'amicizia profonda e con Giuseppe Bertolucci, oltre che sperimentare anche con l'amore probabilmente, che è stato poi l'ultimo suo film di finzione, sperimentare una forma di linguaggio cinematografico molto aperto e molto libero, mi sono ritrovata con lui anche a teatro perché lui ha curato la regia di Karenina, Prove aperte di infelicità, che è una riscrittura da Karenina che ho fatto con Emanuele Trevi. Il cinema poi ha cominciato a dare un po' di pari passo con il percorso teatrale che però non ho mai abbandonato e che insomma non intendo abbandonare ed è, sì, il cinema è molto più variegato anche perché poi sì, scelgo di fare alcune cose però vengo scelta e quindi c'è molta più diversificazione di temi, di possibilità e va bene, va bene, è mestiere d'attore comunque un attore non deve essere un noioso, deve essere uno che prova molte possibilità e al cinema c'è questa possibilità se non viene incasellato in un ruolo come spesso succede in Italia. in televisione per esempio c'è stata l'esperienza della meglio gioventù quindi ciò dimostra che la televisione può essere a un bel, a un buon livello e la meglio gioventù che è poi passata dal linguaggio televisivo a quello cinematografico per una fortuna di percorso e quello è stato, anche quella è un'esperienza molto speciale. Non avevo letto nulla di Irene Mirowski fino a quattro anni fa, mi è stato regalato questo libriccino che mi ha incantato, mi ha colpito al cuore e ho desiderato da subito di tradurlo in qualche modo e quindi ho cominciato un lavorio che è diventato prima un audiolibro per Emmons e da lì una sorta di lettura-lezione col pubblico che poi è cresciuta ed è diventata un'idea di teatro. È stato un lavorio lungo e però diciamo fluido perché l'una cosa portava all'altra e quindi effettivamente poi mi sono ritrovata con non molti giorni di prove che hanno portato alla configurazione della regia dello spettacolo a riuscire a dare forma a tutto con degli elementi molto semplici perché poi effettivamente si tratta di specchi, di veli, di un tessuto poverissimo, di una dormeuse luci. Ho cercato in questa regia in cui però mi trovo sola in scena, ho cercato intanto di dar ragione nella mia solitudine per cui questa donna che si trova in scena ripercorre la storia e attraverso gli specchi, attraverso queste riflessioni fa emergere le figure della sua storia che l'hanno ossessionata, che lei ha subito, ha vissuto anche con prepotenza e quindi piano piano vengono svelati gli specchi e i personaggi prendono corpo e prendono voce. Non è mia autobiografia per fortuna, anche perché questa madre è veramente un mostro e purtroppo era autobiografia di Irene Mirowski, anzi la madre era molto peggio di quella che viene descritta nel ballo, era veramente una figura di una ferocia stellare quasi incredibile e mi ha molto preso questo elemento esistenziale che percorre tutta la sua opera e poi credo che l'infanzia sofferente e rabbiosa che emerge da questo racconto e da moltissimi dei suoi racconti è un elemento di empatia molto forte con il pubblico. Ciascuno di noi, malgrado non abbia vissuto quello, può sentirsi parte di una storia del genere che è una storia di disamore, di mancanza d'amore e quindi di risentimento e di vendetta.